La Chiesa o è annuncio o non è Chiesa. A conclusione del mese missionario Papa Francesco torna così sul tema dell'evangelizzazione. Lo fa nell'ultimo libro intervista da domani in libreria frutto di una conversazione a Santa Marta con il giornalista Gianni Valente. Occasione per chiarire espressioni come Chiesa in uscita che cresce per attrazione e non per proselitismo. È la prima volta secondo me che c'è anche la possibilità di liberarsi dal rischio di ridurre queste frasi a degli slogan, a degli stereotipi del linguaggio ecclesiale. Perché la cosa sorprendente è che con tutte queste frasi lui in qualche modo rinvia alla sorgente di grazia della missione. Fra le espressioni nuove invece quella sulle dogane pastorali. Non mettersi cioè sulla porta a controllare se gli altri hanno o no i requisiti per entrare. Lui fa l'esempio in particolare nel libro dell'iniziativa del battesimo facile che era stata presa da alcuni sacerdoti a Buenos Aires che si erano accorti che in una grande città di una nazione cattolica come Buenos Aires tante persone non battezzavano più i propri figli perché c'erano degli impedimenti di carattere sociologico o magari veniva preso come pretesto per non concedere il battesimo ai bambini il fatto che i genitori avessero una scarsa preparazione religiosa. E quindi questi sacerdoti si misurano in modo per far comprendere che invece il battesimo è una cosa semplice una cosa che può essere in qualche modo offerta come dono a tutti senza precondizioni. Questo per dire che queste frasi che il Papa dice poi hanno dei riscontri concreti sulle vite delle persone e anche sulla vita delle comunità ecclesiali.